Riprendiamo il nostro conta pezzi, rendiamolo più efficiente introducendo il controllo del fronte di salita e del fronte di discesa per evitare che conti pezzi quando non è necessario. Iniziamo subito. Proviamo a creare una versione del conta pezzi migliorata. Il sistema per migliorare l'oggetto che abbiamo visto l'altra volta soffriva di un problema. Se questo qui è l'oggetto che devo andare a contare, a intercettare, se questo qua si pone di fronte al mio sensore e sta fermo, per come avevamo scritto lo sketch, includendo un certo delay tra una rilavazione e l'altra, se l'oggetto sta fermo il contattore continua a salire, cosa che non va bene. Quello che dobbiamo fare noi è andare a identificare i fronti di salita e di discesa. Abbiamo visto qualche video sull'argomento, proviamo ad applicarlo a questo caso. Il mio sensore fornisce un segnale che, come abbiamo visto, è inverso. Avremo un segnale sempre alto e quando arriva il pacco di fronte diventa basso. Conviene girarlo, quindi lo gireremo in qualche modo, in modo che sia sempre basso e presenti un fronte positivo quando passa l'oggetto. Quello che dovremmo fare è andare a identificare i fronti di salita e di discesa dell'impulso. Fronte di salita significa che l'oggetto sia presentato di fronte al sensore. Poi avremo tutta una zona centrale in cui avremo l'oggetto fermo. Questo può variare, quindi avere un tempo breve oppure lungo. E infine, quando l'oggetto esce dal raggio d'azione del sensore, avremo il fronte di discesa. Noi dovremo collegare il conteggio nel momento in cui l'oggetto ci abbandona, quindi sul fronte di discesa. Rapidamente, schema elettrico del circuito utilizzato, quindi Arduino a vostro piacere, originale, clone, quello che volete. Andiamo a collegargli un display con cifre a sette segmenti. Useremo il TM16E37. TM16E37 display. Questo oggetto si pilota tramite una libreria. Potete mettere poi qualsiasi altro tipo di display voi preferite. Ha due pin chiamato DOESCK. Data IN va sul pin 4 e l'SCK lo mettiamo sul pin 5. È una versione clonata dell'I2C, quindi richiede una libreria sua. Poi dall'altra parte andiamo a mettere un sensore per rilevare l'oggetto. In questo caso ho usato un sensore a infrarossi che monta un moduletto SHARP, il GP2Y0D810Z0F. Lo trovate in commercio anche come breakout board dal nome MRE003-004.1. Comunque il sensore dipende da quello che volete misurare, quindi basta che mettete qualcosa che genera un segnale digitale di questo tipo. Quindi può anche essere un sensore di prossimità, qualsiasi altra cosa desideriate. Quindi questo qua lo alimento 5V con il ground. Se usate proprio questo ricordatevi che ha un pin di Enable che va collegato ai 5V. Poi il segnale lo vado a portare sul pin 2 di Arduino. Poi abbiamo un tasto di Reset collegato con resistenza di pulldown, resistenza da 10K. Il tasto di Reset lo portiamo per esempio sul pin 3. Andiamo a scrivere lo sketch. Allora includete la libreria TM1637, se non ce l'avete l'andate a installare. Io ho utilizzato in particolare quella di Groove. Vado a includere all'inizio dello sketch la libreria definendo i pin 5.4 per clock e DIO. Li passo all'oggetto TM1637. Assieme a questo oggetto per poter scrivere tranquillamente su questo display ho creato una funzione chiamata Sean Amber. prende il numero da visualizzare e lo passa al display perché dobbiamo andare a sezionarlo per tirar fuori unità, decine, centinaia, migliaia. Come faccio a farlo? Basta dividere il numero per 10 e prendere il resto. Quindi faccio il modulo. Modulo 10 ottengo l'unità. Dividendo il numero per 10 applicando modulo 10 trovo le decine e così via. Passo questi numeri utilizzando il metodo display che vuole la cifra a cui vado ad applicare il numero calcolato. Quindi le unità sono di 1. Devo dire le metto sulla cifra 3 che è quella tutta a destra. E qui vedete come viene effettuato. Quindi questo metodo di comodo ci permette di visualizzare rapidamente senza problemi quello che ci serve. Dovendo fare un conteggio creiamo una variabile count che mettiamo uguale a 0. La prepariamo qua. Poi nel setup prepariamo i pin. Quindi pin mode 2 input è l'ingresso del nostro sensore. Il tasto di reset messo sul pin 3. Quindi pin mode 3 di input. Inizializziamo il display con TM1637 init. E andiamo a impostargli la luminosità con set. Gli passiamo un numero che va da 0 a 7. Se lo mettiamo per esempio a 2. Vado a dargli una luminosità non troppo forte. Insomma in modo che si veda comunque. Ok siamo pronti. Allora abbiamo il primo problema. Leggendo il sensore abbiamo un segnale girato. Cioè sempre positivo. Quando passa qualcosa diventa negativo. Allora creiamo una variabile. Chiamo bool. pezzo. E qua ci metto digital read del pin 2. Quindi sarebbe sempre true. Diventa false quando c'è il pezzo. Gli metto davanti not. Quindi punto esclamativo. Nego la condizione. In modo da riportarla in una logica a cui siamo più abituati. Quindi la variabile pezzo sarà sempre negativa. Quando passa qualcosa diventa positiva. Quindi una logica positiva. Conviene fare così. Vado a portare fuori questa variabile. Bool pezzo. Quindi copio. Tolgo bool. La metto qui all'inizio. Per utilizzare fronti di salita e discesa. Devo tenermi anche quella precedente. Quindi farò anche prev underscore pezzo. Prev sta per previous. Quindi precedente. E prima di uscire dal ciclo. Vado a mettere dentro prev underscore pezzo. Il valore di pezzo. In modo che ad ogni giro. Ad ogni pedalata del loop. Vado dentro. Valorizzo pezzo. E poi prima di uscire. Metto dentro prev pezzo. Il valore di pezzo. Avevamo già visto. Cosa comporta questa cosa qui. Quindi io ho il mio segnale. Il segnale generato dal sensore. Sarà una cosa del genere. A un certo punto salirà. Perché passa l'oggetto. Poi l'oggetto ci mette un po' ad attraversarlo. E se ne va. Il loop non è istantaneo. Ci vuole un po' di tempo. Quindi possiamo pensare di mettere delle divisioni. Che rappresentano la durata del ciclo di loop. Quindi quando sono qui. Cosa mi accorgo. Entro. Trovo il tasto premuto. Quindi pezzo sarà true. L'altra volta l'abbiamo anche indicato con delle bandierine. Quindi questo è pezzo. E questo è previous pezzo. Quando sono nel punto 1. Quindi entro in questo ciclo. Mi trovo. Pezzo true. Quindi vuol dire bandierina su. Mentre prev pezzo. E' ancora false. Prima di uscire dal ciclo. Vado a copiare dentro il prev pezzo. Pezzo. E quindi. Il giro dopo. Prev pezzo sarà true. Se tengo premuto il tasto. Anche pezzo sarà sempre true. Quindi ho le bandierine su. Ok. Fino a che arrivi in fondo. Esco. Quando esco qua. Cosa mi trovo? Mi trovo. Prev pezzo. Che è ancora su. Perché non c'è ancora copiato il valore. Mentre pezzo. Avendo. Rilasciato il tasto. Comunque. L'oggetto è. Uscito dal raggio d'azione. Diventa false. E quindi. Quando. Sono in questa situazione. Ho beccato il fronte di discesa. Poi. Proseguendo. All'uscita del loop. Vado a copiare dentro. Prev pezzo. Pezzo. E quindi. Tutte e due. Saranno false. Praticamente succede che. Anche qua. Tutte e due false. Qui è il momento in cui li premo. Ad ogni uscita del loop. Vado a copiare pezzo. Dentro il prezzo. Quindi. Faccio questa cosa qua. Ok. E me la ritrovo così. Abbiamo capito come individuare. Fronte di salita e di discesa. Basta creare. Semplicemente. Degli if. Ne creo uno. Poi lo copio tre volte. Perché così. Possiamo trovare i tre momenti. fondamentali di questo segnale. Quindi metterò pezzo. End. Quindi doppia e commerciale. Prev. Underscore pezzo. Quindi metto queste due variabili. Copio il ciclo tre volte. E. Primo caso. Ho pezzo. Not. Prev pezzo. Quindi questo qui è. Il fronte di salita. Poi. Se ho pezzo. E prev pezzo. Tutte e due su. Ho. Pezzo. In. Scorrimento. Quindi sta occupando. L'area di lavoro. E poi. Infine. Not. Pezzo. Emprev pezzo. E questo qui. Corrisponde. Al fronte di discesa. Ora. Per non sbagliare. Quindi non. Incappare in quel. Problema. Che vedevamo. L'altra volta. Con il numero che saliva. Col pezzo fermo davanti. Allora. Quando il pezzo entra. Non faccio niente. Lo faccio entrare. Quando sta. Staziona. Di fronte al sensore. Non faccio nulla. Solo quando esce. Andrò. A incrementare. Del sensore. Count. Più. Questo evita. Quel fastidioso problema. A questo punto. Basta. Completare lo sketch. Avevamo anche. Il tasto. Quindi il reset. Vado a mettere. Un if. Per. Resettare. Il nostro contatore. Abbiamo. Read. Del tasto 3. Se premo il tasto 3. Mettiamo. Count. Uguale 0. Immediatamente. E poi. Abbiamo la nostra. Show number. Che ci permette. Di visualizzare. Il numero. Sul display. Quindi. Show number. Di count. La show number. Se usate. Un display. Diverso. Potete. Semplicemente. Mantenerla. E cambiate. Il codice. All'interno. Per far sì. Che visualizzi. Il conteggio. Sul vostro display. Qui. Io la visualizzo. Ad ogni giro. Di loop. Potrebbe essere. Fastidioso. Per alcuni display. In questo caso. Andate a mettere. Magari. Un timer. Non bloccante. Per far sì. Che venga. Aggiornato. Per esempio. Ogni 100 millisecondi. Ok. Salviamo. Compiliamo. Proviamo a caricarlo. Sul nostro arduino. Vediamo se funziona. Ok. Quindi ecco quel pezzo. Vedete che. Finché non se ne va. Non viene incrementato. Il conteggio. Se resta fermo. Davanti. Non succede nulla. Devo farlo uscire. Dall'area. Del sensore. Quindi. In questo modo. Abbiamo realizzato. Contapezzi. Molto più robusto. E più efficiente. La trattazione che abbiamo visto. Con il fronte di salita. E fronte di discesa. Rende più robusto. Il nostro sketch. E rende il sistema migliore. Per oggi è tutto. Vi saluto. Vi ringrazio. Ci vediamo domani. Ciao.